Allora siamo in via San Giovanni decollato, via San Giovanni decollato, non è che è partito con l'aereo, è decollato perché una volta si diceva che venivano decollati, quando venivano decapitati. Questo è il bar davanti al negozio di Lucianino e accanto al negozio di Lucianino. Lucianino Imbriani è al bar come al solito, buongiorno, c'è anche l'arrotino qui, c'è tutta una rappresentanza. Luciano buongiorno, ti chiedo, ho già parlato con il Peloni che in questo momento è dal dentista e ti risponderà nei prossimi giorni. Quindi già lui sa che tu farai polemica, perché? Perché Mauro mi ha detto io ho inventato i boulevard, li ho fatti fare al sindaco Fanfani, il sindaco Fanfani li ha fatti proseguire al sindaco Ghinelli e Lucianino gli girano le scatole perché i boulevard fanno via Crispi, arrivano a Guido Monaco e dovrebbero proseguire. Allora io ho detto, Lucianino fai in modo che i boulevard col Peloni passino, perché a Peloni li ascoltano, passino davanti al Peloni, poi pigliano per il corso, fanno via San Giovanni decollato e poi ritagliano per Guido Monaco. Ma te gliel'hai detto questo Mauro? Sì. E lui che ha detto? No io guardo lì perché vedo sto buco nero e voglio vedere se vedo anche lui. E te hai detto è dal dentista. Sorridi? Vedete il dentino? No eh? Dai. Perché lui è dal dentista, i dentini sa. Sai qui, vedete qui? Per dentini. Come le nutrie? No la nutria, no no, è un altro tipo. Quelli lì che... Ha i serpenti. Ah, hai visto? Lui ha quella cicatrice nella bocca lì, quella lì. Beh Mauro mi ha detto, mi ha premesso che tu sei un po' invidioso. No, no geloso. No, invidioso. Geloso lui dice normalmente, geloso e cattivo lui dice. No, lui ha detto invidioso perché lui dice una cosa e la fanno subito quelli del comune. E te invece non ti caca nessuno. Questo è quello che dice Mauro. Ah, è vero, è vero. Anche perché io a questo punto sono costretto a cacare da me. Non c'è niente da fare. Lanciamo un appello. Mauro, dacci qualcosa, aiutaci anche noi in via San Giovanni decollato. fai passare almeno il tram, almeno il tram. L'unica cosa che ci passa è il tram. No, allora, una pista ciclabile. Oh. Oh, una pista ciclabile. In via San Giovanni decollato. Fai Mauro, fallo. Fai che la gente venga qui con l'infradito. Noi attendiamo questa risposta. Ora il dentista ci dà una mano a noi, per un po' non può rispondere un bene per tutti. Quindi mica gli taglierà la lingua, eh. No. Di ne pareggia. No, perché va da un parente. È vero. E su cucino. Eh, se no, e se no, e se no. E se a tutti. Va bene. Grazie Luciano. Grazie Mauro. Grazie di esistere Mauro, eh. Ciao. Ciao.